Con la presentazione del libro di Paolo Rossi, le dinamiche Stato-Banche pre- e post-pandemia, ha preso ufficialmente il via l'attività dell'associazione Umbria Economy, presieduta da Marco e Vinicio Guesticchi. Mercoledì 26 ottobre all'Hotel Brufani di Perugia a discutere di questa nuova pubblicazione e delle tematiche di attualità strettamente connesse durante un incontro molto partecipato, insieme a Guesticchi e Rossi c'era Carlo De Simone, amministratore delegato di European Broker. Un libro quanto mai attuale, soprattutto in questo momento, ripercorre la storia dal 2008 ad oggi, ma soprattutto ci mette alla luce quello che è stato il sistema di aiuti del Temporary Framework durante la pandemia e quello che oggi il sistema bancario è alla luce della crisi che sta colpendo le imprese e che sta colpendo anche la catena del valore e quindi degli approvvigionamenti. Il sistema bancario diventa centrale, ma ancor di più il ruolo dello Stato a supporto dell'economia e quindi naturalmente a supporto della finanza. La nostra è un'associazione, ha spiegato Guesticchi, che ha come riferimento l'andamento economico della Regione alla luce dei grandi movimenti economici dell'Italia e dell'Europa. Intanto è un'associazione che ha come elemento di riferimento la vita economica della nostra Regione, ovviamente alla luce dei grandi movimenti economici dell'Italia e dell'Europa. Dico questo perché quello che sembra mancare in un territorio, anche seppur piccolo, come appunto l'Umbria è poter avere degli elementi di confronto, in termini sia convenistici, in termini anche di risposta immediata per quello che riguarda il mondo dell'imprenditoria, il mondo del credito. E allora abbiamo capito che forse questo vuoto che c'è in questo momento, un vuoto informativo, può essere riempito appunto con un'attività convenistica, con anche una trasmissione televisiva che stiamo strutturando, che si chiamerà Umbria News Economy, e che creerà le condizioni per avere delle risposte, per porre dei quesiti, avere delle risposte e soprattutto cercare di interpretare insieme quello che è l'attuale momento economico che stiamo vivendo. La pandemia, ha spiegato l'autore, docente universitario Rossi, è stata una grande rivoluzione e ha di nuovo posto al centro anche dei sistemi economici la presenza dello Stato. Alla crisi finanziaria del 2008, partita dall'America, che ha coinvolto il sistema finanziario globale, fu data una risposta, non ci doveva più essere lo Stato che salvava le banche, si dovevano salvare da sole. La pandemia è stata veramente una grande rivoluzione e soprattutto ha di nuovo posto al centro anche dei sistemi economici la presenza dello Stato. Cosa era successo prima della pandemia, velocissimamente? La crisi finanziaria del 2008, partita dall'America, che ha coinvolto tutto il sistema finanziario globale, a quella crisi fu data una risposta. Non ci doveva più essere lo Stato che salvava le banche, ma le banche si dovevano salvare da sole. Nacquero le regole europee dopo il 2010. In realtà queste regole europee, quella cosiddetta del bail-in, cosa hanno imposto? Hanno imposto qualcosa che stava per far fallire tutta una serie di banche. Pensate al caso del Monte dei Paschi di Siena in Italia. Il Monte dei Paschi di Siena in Italia è stato salvato dallo Stato, che ancora oggi è il maggiore azionista dopo quella operazione del 2016. Quando è arrivata la pandemia, in realtà la pandemia non ha fatto altro che consolidare questa nuova centralità dello Stato nel sistema bancario. Il sistema bancario da solo non si sostiene. Questo è il punto. Perché questo libro? Questo libro nasce proprio nel periodo della pandemia. È un libro fatto della mia voglia di andare a fondo su questi scenari di crisi, per cercare di comprenderli e di uscirne in qualche modo fuori. Grazie. Grazie.